Oggi vediamo come rendere dei piccoli perni o delle piccole clip resistenti in modo che non si spacchino nell'utilizzarle. Ho preso come esempio questa placchettina qua con dei perni, vedete, come le clip probabilmente entrano in pressione con qualcosa e rimane bloccata alla targhetta. Subito una cosa che vorrei farvi notare è se l'inclinazione con cui stampiamo l'oggetto è questa, per forza di cose le clip ci si spaccheranno. Perché? Perché la stampa 3D lavora a strati, ovvero uno strato dopo l'altro partendo dal basso e arrivando in alto e quando realizzerà questi perni qua, gli strati saranno uno sopra l'altro e se sottoposti a pressione si spaccheranno. Perché uno strato, gli strati non escono molto molto aderenti, non è come uno stampo e una colata di plastica dentro uno stampo che il materiale si secca tutt'assieme. Qua è uno strato dopo l'altro. Quindi è possibile realizzare clip perni piccoli? È possibile sì, come cambiando l'inclinazione dell'oggetto. Ogni oggetto che stampate ha la sua inclinazione, sempre bene ragionare sotto questo aspetto qua e vi faccio vedere come far sì che queste clip resistano. Inclino di 90 gradi il mio oggetto, in questo modo, visualizzazione strati, allora rivediamo subito i miei strati non saranno più realizzati in modo orizzontale ma, diciamo, verticale all'oggetto di come lo stavamo guardando. In questo modo la clip è difficile che si spaccherà perché gli strati sono messi in modo che questo perno resista. Questo va a discapito dell'incisione davanti, non si potrà fare a due colori, ma le clip sicuramente rimangono. Per aumentare anche, diciamo, la tenuta è possibile lavorare a 01 al posto che ero 02, di modo che i livelli sono molto più sottili. Questo trucco qua è importante e va sempre sempre considerato quando si devono realizzare oggetti piccoli, perni e clip, diciamo. Alla prossima!